Mister in Pagliazzo del Real Forio, mister 3-1 contro la Sessana, tre punti conquistati, si rendono in vantaggio 2-0, poi un calcio di rigore 2-1, alcuni errori potevano anche compromettere la gara? Diciamo che la gara ce la siamo rimessi noi in salita dopo una partita, dopo 25 minuti era letteralmente chiusa perché abbiamo giocato contro una squadra di giovani e i primi 25 minuti dove abbiamo messo intensità poi abbiamo subito il gol, una squadra che è penultima in classifica, la paura di non ottenere il risultato ti pesa nella mente e quindi poi dopo credo che per lunghi tratti tutta la partita il Forio non abbia rischiato nulla eccetto una palla, una disattenzione all'area di rigore, però prima di quello potevamo chiudere già la partita con 3-4 gol 3-4 volte a tu per tu col portiere vedi Castagna, vedi Rubino, vedi Cross che attraversano l'area di rigore non abbiamo mai attaccato lo spazio quindi la partita la si poteva aiutare in qualsiasi momento credo che per grandi linee il compito nostro era quello di dover ottenere i tre punti, li abbiamo ottenuti facciamo un Natale un attimino più sereno poi sperando che l'anno nuovo ci tolga queste defaianze mentali che purtroppo nell'arco della gara abbiamo Un commento sulla partita del Neacquisto Piccirillo? Già giocato la settimana scorsa, è un giocatore che la categoria la conosce, è un giocatore che può darci una mano non è un giocatore che può trascinare la squadra ma è un giocatore che fa la sua onesta figura in questa categoria Ancora in cerca di nuovi acquisti? Assolutamente no, il mercato si è chiuso ieri, svincolati che vengono a giocare a Ischia dal continente non ce ne stanno le squadre che stanno a Ischia, ognuno tiene il Barano, la Rinascita Ischia, il Mondo Sport tiene i suoi calciatori questi siamo e con questi dobbiamo andare avanti fino alla fine dell'anno e poi comunque noi dobbiamo recuperare ancora qualche elemento che è squalificato tipo Di Dato, tipo Cristiagliacono che comunque ci possono dare una mano durante l'arco dell'anno